Nell'ottica di un rilancio dell'iniziativa politica sul territorio, oltre che con l'obiettivo di un ricambio anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, Forza Italia in Abruzzo volta pagina presentando i nuovi quattro coordinatori provinciali annunciati già ieri dall'ufficio stampa nazionale del partito. Il presidente del comitato regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, questa mattina nel conso di una conferenza stampa, ha parlato delle novità che Forza Italia metterà in campo nella nostra regione. Quattro coordinatori, solo per la provincia dell'Aquila Antonella di Nino, unica riconfermata, per la provincia di Teramo Vincent Fanini, per la provincia di Chieti Daniele Damario e per la provincia di Pescara Carlo Masci. Presidente Berlusconi, abbiamo deciso di dare un nuovo slancio. Ringrazio in modo particolare i coordinatori provinciali uscenti che si sono molto impegnati, cominciando da Maurizio Brucchi, il quale per la verità è stato lui a chiedermi di essere sostituito, in quanto gli è stato conferito il ruolo di vicepresidente regionale del partito, quindi una forma di promozione. Lui mi ha detto che fra gli incarichi di sindaco e quelli di vicepresidente regionale, Condele Gallanci non aveva più tempo. Quindi nel caso suo abbiamo individuato l'avvocato Fanini, ma anche in provincia di Pescara è accaduta la stessa cosa, anche in provincia di Chieti, dove il sindaco Magnac, Canchella impegnata sul fronte del suo incarico di sindaco, non aveva la possibilità di fare quel che invece il presidente Berlusconi intende fare, cioè una presenza costante e veramente parcellizzata sul territorio, nel senso che ogni comune deve vedere la presenza del coordinatore provinciale e dell'amministratore provinciale. Questa è un'occasione per rinverdire, direi slancio, a un movimento politico nel quale noi tutti continuiamo a credere e pensiamo che l'iniziativa politica in questo modo possa essere rilanciata. Sono motivati proprio per far rinascere Forza Italia in Abruzzo, in tutte e quattro le province, mi sembra una cosa molto molto positiva. Poi ai primi di giugno anche loro aiuteranno e collaboreranno per individuare anche i loro vici e i responsabili, specialmente nei grandi comuni. E questo mi sembra una buona idea, proprio per ricombattare Forza Italia, di far rivivere forte e di rivincere in tutti i comuni, ma anche in regione, con Forza Italia. Sono stato iscritto, sono iscritto, ma soprattutto c'è lo stesso spirito del 94, quello che mi ha portato a fare politica vicino al territorio, con una realtà civica che è diventata importante in regione. Questo spirito voglio portarlo all'interno del movimento politico che più rappresenta l'area moderata, l'area di centro-destra, con stimoli rinnovati che oggi devono portare a guardare sempre di più il territorio e le persone che sono in difficoltà. E questa è la spinta che io vorrò dare, sapendo che dobbiamo raggiungere in termini inclusivi, coinvolgendo tutti.